La cosa bella del tatuaggio è che ci rende liberi di fare e di tatuarti quello che cazzo ti pare. Questa è la cosa secondo me che nessuno può dire a meglio il mio e a meglio il tuo, sono più bravo io, sei più bravo te. Ognuno fa il suo. E la libertà di poterlo fare con la consapevolezza di fare qualcosa di tuo, di libero, secondo me è un dono enorme che questo mondo ti dà. Un dono enorme. Benvenuti in questo Martedink episodio 73, abbiamo qui oggi 73, Gabriele Donnini. Ciao a tutti, buonasera. Ok, ragazzi siamo in diretta qui a Roma dal Tattooing Devon Studio di Gabriele appunto, questa sera faremo insieme un po' di riflessioni, ho voluto contattare te appunto perché da quello che ho visto ovviamente sempre senza conoscerti e quindi tramite social, no? Perché abbiamo una differenza anche di generazioni. Sì, purtroppo sì. Però comunque sul social ci sei e queste riflessioni ne hai fatte, ne hai fatte tante e quindi non c'è l'ospite migliore secondo me per parlare di questo. Beh, iniziamo dalle basi, chi è Gabriele Donnini e dove ci troviamo adesso? Dicci un po'... Beh, Gabriele Donnini è non altro che un misero tatuatore vecchio, ci troviamo nel mio studio, il Tattooing Devon Studio di Roma, lo studio che è stato aperto da GP nel 1986, quindi è stato il primo studio su Strada Roma, uno dei primi in Italia e poi l'ho ereditato io, ora sono più di 20 anni che il mio, insomma. Ok, GP Donnini adesso non sapete chi è, ragazzi, beh, lì dovete... Cambiate canale, se non sapete chi è GP Donnini è la cambiate canale. Va bene, e Gabriele, quante anni hai e da quanto sei... Non si chiede le tale signore. No, vabbè, ok, però... Comunque... Giusto per sapere, quanti anni hai... 60, tu di quasi 61. Da quanto tempo hai che sei nel mondo del tatuaggio? Da metà degli anni 70, quindi sono quasi 40 anni. Quindi ancora prima dello studio comunque già hai... Cioè sono più di 40 anni, sì. Cazzo. Beh, sì, ho cominciato prima degli studi, non esistevano studi, non esistevano le macchinette, non esisteva nulla in Italia, parlo. E come hai fatto... Cioè la domanda proprio ignorantona che mi viene da farti è come hai fatto a... Insomma, ad appassionarti questa cosa che appunto non esisteva ancora. Allora, questa è una domanda che mi hanno posto tanti e mi pongo anche io adesso, ma non c'è una risposta, non so realmente cos'è che mi leghi in modo così viscerale a questo mondo. Ho cominciato sicuramente per emulazione, cioè vedendo gli amici più grandi, tatuati, ho sempre, ahimè, dico ahimè così, ho sempre frequentato gente più grande di me quando ero giovane. Erano tatuati, mi affascinavo subito questo... L'estetica proprio? Proprio le storie più che l'estetica. Cioè di come si erano fatti loro i tatuaggi ai tempi? Sì, come perché le motivazioni, cioè anche oggi provo un grandissimo fascino ancora, nonostante sia ormai diventato mainstream. Certo. Ancora quando vedo una persona di una certa età tatuata, la prima cosa che penso è la sua storia. Poi me ne frego di come è fatto i tuoi tatuaggi, capito? No, c'è, chissà cosa l'ha portato a farsi i tuoi tatuaggi. E' questo che forse che mi ha fatto scattare questa follia, è stata un'illuminazione sulla via di Damasco, capito? Bello, bello, bello. Quindi partendo da questo fascino che prova a venire nei confronti dei tuoi compagni più grandi di queste storie qua, hai iniziato come? Ho iniziato... Il tuo corso da tatuatore, se possiamo chiamarlo. Ho iniziato, guarda, io ho iniziato tatuandomi, autotatuandomi, quindi sono diventato contemporaneamente tatuato e tatuatore nello stesso momento. Avevo 14 anni nel 1976, mi sono fatto a mano, di nascostissimo chiaramente da i poveri papà e mamma che non ci sono più, il mio segno zodiacale, il toro. E da lì è partita proprio la scheggia. Quindi il primo tatuaggio te lo sei fatto tu? Sì, a mano. La rimpiangi sta cosa o...? No, l'ho vissuta, io non so che rimpiangi molto il pastato, perché tendo a guardare davanti. Se mi guardo dietro, mi metto a piangere. Certo, certo. Quindi guardiamo avanti, o al limite guardiamo al presente che è la cosa più naturale da fare, no? Ok, quindi partendo da queste basi qua... Beh, ho sperimentato, perché non c'era nessuno che mi insegnasse nulla, anche perché non c'erano tatuatori in quegli anni e non ero neanche così grande da poter andare in giro a chiare che c'ho 14 anni, quindi ho cominciato a tatuare a mano tutti gli amichetti del giardinetto, la sera dopo, che ne so, due gannette e ci tatuavamo, anzi, lì tatuavo. E da lì è partita proprio la follia. Da lì è partita del tutto, e fighissimo. Stasera parliamo appunto di riflessioni, come ho detto anche ai ragazzi prima, abbiamo anticipato attraverso vari post e storie su Instagram principalmente, e ho pensato, dopo mi dici tu se ti sembra una cazzata, se vogliamo andare così... Tu pensi e tu fai, io eseguo. Ok, allora, io ho diviso questa chiacchierata. Dà fastidio se ogni tanto... No, no, non ci mancherebbe, a me non dà fastidio, mi sentirà il pfff nella testa dei nostri ascoltatori, ma no, 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 ma che, ci mancherebbe, fuma, fuma, fa bene, fa bene, fumate. No, vabbè, ho divisa in quattro comparti, diciamo, questa chiacchierata, quindi abbiamo detto che comunque sei nel settore da circa 40 anni, e... Mi fa paura sta cosa, sai, quando mi ci penso? Sì, no, in 94, io, quindi... Vaffanculo. Tu hai lo studio, questo studio da circa quell'età lì, quindi... No, vabbè, era giusto per avere, diciamo, una linea guida da seguire. Sì, un tagline. Un quattro riflessioni, quindi una partendo da quello che era il tatuaggio prima, quando ti sei approcciato, adesso andiamo magari un po' più nel dettaglio, e poi una, due di mezzo, quindi dopo i primi dieci anni del tatuaggio, dopo venti, e oggi il tatuaggio visto al giorno d'oggi, quindi seguiteci perché alla fine avremo, diciamo, quello che può interessare in modo di più magari le persone di oggi, no? Interessare magari il confronto tra... Esatto, quindi sapere un po' quella roba lì. Però, partendo dalle basi, il tatuaggio quando inizia? Beh, guarda, negli anni settanta in Italia il tatuaggio non c'era. Cioè, c'era, ma era veramente underground. Non esistevano tatuature, almeno che io conosca, poi può essere con macchinette elettriche serie, quindi tutto autocostruito, non c'erano riviste sul tatuaggio, non c'erano studi, non c'era nulla. Quindi era una sorta di... Eravamo come degli argonauti, non so come dire, abbiamo fatto come un salto a piedi pari nel buio, no? Certo. In un mondo super affascinante, perché all'epoca era davvero affascinante, perché era una scoperta. Perché non c'era nient'altro, non c'era un... Non c'era nulla, non avevi delle reference, non conoscevi i nomi dei tatuatori del passato perché non c'era materiale all'epoca. Per scoprirli. Su cui legge, a meno che uno non viaggiava, però a 14 anni, dove cazzo hai? 14 anni non è ancora l'età. E quindi è stato forse il periodo, diciamo, gli anni settanta, io ne ho vissuti pochi degli anni settanta come tatuatore, però gli anni ottanta secondo me è stato il periodo più fico della mia vita. Tutto? Da tatuatore, ti parlo. Ok. Sì, perché era un continuo sperimentare ogni cosa, dalla saldatura degli aghi, sperimentare le macchinette, i colori erano, non ti dico un'utopia, ma quasi, perché in Italia li faceva Nando Marini, basta penso, in Italia. Quindi siamo andati, ancora mi ricordo, a comprarli all'isola di White, dei colori predispersi, delle cose assurde. Cioè, si viaggiava, il periodo che potevo viaggiare, si viaggiava per cercare delle chicche, no? Che qua non esisteva. Cioè, per fare, tra virgolette, importare in Italia quello che era una cultura di tatuaggio che in Italia ancora non esisteva. Non esisteva. Proprio pionieri. Non esisteva, proprio. Pionieri a... Sì, io meno perché ero giovane, però c'era gente più grande di me che erano... Che già faceva quella roba. Sì, 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 assolutamente sì. E i tatuaggi di cui stiamo parlando, che tatuaggi sono? Perché adesso la gente è abituata dal social a vedere un po'... Beh, ora ci sono gli stili, no? Esatto. Quindi fai New School, New Tradition, eccetera, eccetera. E prima c'era il tatuaggio. Non era nulla di così categorizzato, no? Ci veniva quello, l'amico, perché poi erano amici che ti chiedeva il gabbiano, perché il gabbiano era... È un simbolo, quindi? Sì. È un simbolo? Sì, assolutamente, tutte cose piccolissime, sì. Poi fatti a mano, mi ricordo il più grande che ho fatto fu un albatross, che poi non è altro che un gabbiano grosso. Cioè, i gabbiani, come tatuare. Quindi feci un gabbianone così, sulla spalla di uno enorme, con un sole dietro, che magari ritrovarlo oggi, quel tatuaggio là, perché me lo ricordo perfettamente perché ci ho messo una cifra a farlo, tanto, tanto, tanto tempo. E avevi già macchinette elettriche? No, a mano. Io fino all'ottanta... All'ottantuno, 82, ho tatuato o a mano o con macchine autocostruite. Ok. E anche lì la conoscenza era... Provo? Bravo, provo. Era un provo? Sperimento. Non esistono gli aghi. Io quando tatuavo a mano, tatuavo con gli aghi delle siringhe, perché erano molto affilati, entravano bene nella cute. Quando tatuavo a macchietta, avevo gli aghi da cucire, quindi ti puoi immaginare, insomma. Certo, sì, c'è una distruzione... Con l'ago da cucire. Uno. Uno per due. Quindi oggi fai il single needle, sì, era un single needle, ma così. Un bel single needle. La linea di un 9 serie oggi, insomma. Cavolo. Era figo. Era figo e poi, essendoci gli alimentatori, o andavi a batterie, oppure io c'è un alimentatore, ancora me lo ricordo, grosso così, che era solo 220-12 volts. Quindi le macchinette andavano a 12 volts, che se oggi pensi a mandare una macchinetta a 12 volts, trafiggi una persona da parte a parte, un po' tanto potere. Un po' tanto, ora girano intorno ai 5-7 volts, insomma, così. Quindi c'erano solo queste cose qua. Ma anche la conoscenza, secondo me, in materia, cioè almeno dalle parole che dici, è una conoscenza diversa. Cioè, ad oggi credo che una persona che entra al mondo del tuo agio non ha neanche quasi idea degli strumenti che vado a utilizzare, perché appunto funziona, come dicevi anche tu all'inizio, l'emulazione. Mentre prima ci aveva una conoscenza, anche semplicemente, no, parliamo di volt, quindi una conoscenza del capire come far funzionare quel tipo di alimentatore. Beh, l'ho capito dopo. Certo. L'ho capito dopo essermi bruciato la mano per un anno, capito? Perché quando fai, mangi una macchinetta a 12 volts, scotta. E non si usavano guanti all'epoca, io c'ho questa parte di mano qua completamente rossa sempre, sempre, perché le macchinette bruciavano. Ok. E chiedendoti proprio nello specifico un bello ricordo di quei tempi lì. Cioè, proprio un... come se fosse una foto, se potessi scattare una foto di quegli anni e... Guarda, la cosa più fica, che erano anni in cui, essendo giovane e non lavorando, non è che c'erano tutti questi soldi, no? Quindi io ogni vacanza che facevo partivo con le macchinette. Con le macchinette ho tatuato a mano e riuscivo a campare, tra virgolette, questa vacanza tatuando. Quello per me è la più grossa cosa che le tatuavano. Cioè, te la pagavi nel mento la vacanza? Tu andavi e poi la pagavi. Sì, ora mi ci pago la vita di ogni giorno. Lì, invece, era ancora più figo. Ah, sì, c'è il brividino del... Era una cosa anche di... Io, il primo tatuaggio che mi hanno pagato, mi sono stato pagato con un ciao, con un motorino. Questo si doveva fare una cosa grossa. Ho fatto, ah, ma io c'ho un ciao blu, tra l'altro, mi ricordo benissimo. Ti posso dare un ciao? Ho fatto cazzo, sì. Boh, ma il baratto. Il baratto, no? Il baratto. Ho cominciato così, poi, insomma... Vabbè, mille altre cose da barattare. Assolutamente, non entrava in dettaglio. Va benissimo il ciao. Il ciao è una bella fotografia. Questo ciao blu per segnare, appunto, quei primi anni. Quando è che il tatuaggio, mi viene da chiederti, diventa un lavoro vero? Per te, ma in generale anche per quello che la storia che mi sono... In Italia, io parlo dell'Italia, perché poi se dobbiamo parlare del tatuaggio internazionale, nord europeo, così parliamo veramente dei primi del Novecento, fino all'Ottocento. Certo, certo, certo. Quindi, insomma, in Italia noi siamo arrivati, anche se c'erano prima i tatuaggi di Loreto, i marcatori a Napoli, Santilli, eccetera, eccetera, eccetera. Però il tatuaggio commerciale, secondo me, questa è la mia idea, è arrivato in Italia nel 1985. C'è proprio una data, secondo me, che è lo spartiacque tra il prima e il dopo. E fu l'asino e la zebra, che fu una mostra che si svolse in Italia di 15 giorni ai mercati di Traienei, quindi in una location pazzesca, perché è uno dei monumenti più belli che abbiamo a Roma, dove c'erano tutti. C'era Hardy, Doc Forest, c'era il povero Dennis Cockrell, c'era Anki Panky, c'era Orioshi III, c'era il Gotha del tatuaggio mondiale. E è durata questa mostra, che era una convention mascherata da mostra. Sì, era una convention, una mostra, una mostra. Durava 15 giorni, non due, tre come oggi, 15 giorni. Io mi ricordo, sono stato 15 giorni dall'inizio, alla fine, quindi dalla mattina, fino alla sera allo stand di Ed Hardy, proprio innamorato di quest'uomo. Mi sono tatuato da lui, ho visto gente tatuarsi da lui, andavamo a cena insieme, perché poi nel frattempo avevo conosciuto Gippi, che lavorava, quindi Gippi era un po' più dentro di me, all'ambiente, io ero più giovane. Quindi mi ha portato con lui, c'era Felix Liu, cioè ho conosciuto gente in quel momento lì, che era veramente ancora oggi per me, è il Gotha del tatuaggio. La parte che l'ha creato. La parte che l'ha creato. Di questo pianeta, sì. Quella, secondo me, è stata, ha dato l'opportunità a noi romani, a noi italiani in genere, di vedere dei tatuaggi fatti veramente bene. Io mi ricordo, ho visto delle opere di Hardy, io le chiamo opere perché alcune cose erano proprio fuori di testa, che ancora oggi le trovo incredibili per essere fatti negli anni 80, oggi stanno avanti, come concezione. Quello, secondo te, era un discorso proprio a livello di talento? Cioè, non si parla mai di questa cosa qua, però a me interessa molto, e voglio sempre proprio una tua opinione. Allora, dipende cosa intendi per talento. Se intendi un talento tecnico, ti dico no, perché anche oggi ci sono dei giovani fortissimi da un punto di vista tecnico, ma che non hanno talento creativo. Ok. Lì si parla proprio di testa. Cioè, ci sono dei tatuatori, Hardy, Dan Higgs, in Italia abbiamo Rudy Fritsch, che secondo me sono teste particolari, cioè ragionano e tatuano in un altro modo, documentato io anche, perché io mi sono sempre voluto ispirare a questa vena di follia o di libertà, chiamiamola più libertà che follia. Sono belle entrambe in realtà. Sì, sì, dipende sempre come... Dipende ovviamente dal futuro, certo, certo. La follia può sfociare anche in cose terribili. Ovviamente. In te invece la libertà difficilmente. Quindi di non avere dei paletti sugli stili, di fregarsene. Cioè, un po' un sentire, se ti avvergolette, un qualcosa dentro e cercare di riprodurlo attraverso quello che ero faceva. Bravissimo. Io vidi, che la conosceranno molti che seguono il tatuaggio Hardy, una schiena fatta su una ragazza di Hardy con una tigre semirealistica, con uno sfondo e una scacchiera. Dici, in cazzo c'entra una scacchiera? Non lo so, però bellissima. Certo. Bellissima, cioè faceva delle cose folle. Certo, adesso la gente si inventa, tra virgolette, il soggetto per diventare riconoscibile. Ai tempi quella roba lì era una roba che non era pensabile perché il tatuaggio era un altro. Non era pensabile. Come dicevi tu prima, era un simbolo, era qualcosa di contenuto. Certo. Già il discorso con una schiena tua è impressionante. Perché comunque diciamo che il tatuaggio in Italia in modo particolare comunque nasce, io ho una parola che odio dire, le subculture, perché secondo me non esiste una subcultura. Cioè la cultura, poi può essere la cultura punk, però è una cultura, non è una subcultura. Però nasce lì il tatuaggio in Italia, nasce nei marinai, nei porti, nelle galere, nel movimento punk, nel movimento rock. Oggi non è più così. Oggi nasce... Oggi è misto. Oggi è strano se non ce l'hai. Esatto. Però la cosa figa dell'epoca era che tu volevi conoscere qualcosa che non sapevi. Cioè ti impegnavi, io ancora oggi penso di non conoscere il tatuaggio a fondo, perché secondo me è una di quelle cose che è quasi un'entità inarrivabile da toccare. Non so come dire, c'è uno che dice io di tatuaggio so tutto, secondo me non esiste. Impossibile. Capito? Invece ci sta gente che dice di sapere tutto di qualcosa che non conosce. E a me questo mi manda ai pazzi, perché lì hai smesso di tatuare. Quando arrivi a parlare così devi smettere di tatuare, perché se non hai più curiosità, non hai più un modo di... E che cazzo dà che fanno? Esatto. Poi il discorso anche di sentirsi arrivati, questa qua è una... Penso che sia una cosa... Vabbè, quello magari ne parliamo dopo, quando arriviamo al 2000. Esatto. Adesso siamo ancora fermi, siamo ancora fermi a... Perdonatemi. Al primo step. In realtà stavamo parlando del tatuaggio. La Zebra secondo me ha fatto proprio lo spartiacco. Ok. Quindi da lì iniziano a esserci i tatuatori. Ce l'erano già. Però capitale, iniziasse un... C'era Marco Pisa, c'era Gian Morizio, Fersioni, c'era Gippi, a Roma c'era Bruscolino, c'ero io. Cioè c'erano altri tatuatori, ma erano pochi, c'era poco materiale da cui attingere. Le macchinette facevano cagare, parliamoci chiaro. Cioè mi ricordo che Ardi mi diede, io con un verme gli gli dissi, ah io sono tatuatore, non è che mi dai qualche diritto sulle macchinette, lui mi diede il biglietto da visita della National che ancora conservo, che per me fu un regalo immenso, immenso, perché all'epoca dare una macchinetta a un ragazzino era impossibile. Io che ho lavorato da Gippi, prima da e poi con Gippi per tanti anni, la prima macchinetta ma dopo due o tre anni me l'ha fatta comprare, nonostante già tatuassi. Certo. Era comunque... Era diverso. Diverso. Non ti dico meglio o peggio, diverso. Diverso, ci sta. Completamente diverso. Secondo te era custodito anche in maniera differente da parte dei tatuatori questo mestiere, perché alla fine è un lavoro, quindi stiamo parlando della seconda riflessione, no? Sì, il tatuaggio moderno nasce come business, inutile parlare di cose, rito di passaggio, cose... No, è un business, nasce come business, non c'è un cazzo già da fare e penso che nessuno può dirmi il contrario, tatuaggio moderno contemporaneo, poi stanno quelli Tribali, Isola e Samoa, che è un'altra storia, però parliamo del tatuaggio che viviamo noi. Nasce come business, in quanto business hai bisogno di alimentarlo questo business, quindi sono nate le prime riviste, si sono cominciate a vendere le prime tavole, io mi ricordo, andiamo alla prima convention che andai, che fu a Bologna, no, io andai prima una di Dunstable, però in Italia è stata a Bologna nel 93, era pieno di ragazzi giovani che giravano a vendere le tavole, per dire. Era già un modo per fare soldi. Oggi non esiste più questa cosa, oggi se tu vendi un libro di tavole, dietro ci trovi scritto, mi raccomando, da usare solo come reference. Do not copy. Sono d'accordo, sono d'accordo se una persona è in vita, nel senso, se io faccio un libro di Flash, a me sembra proprio non me ne frega un cazzo. No, questa è una visione tua. È una premessa, non me ne frega proprio niente. Ieri ho visto una tatuatrice spagnola che mi ha copiato un drago perfetto, anzi l'ha fatto meglio di me. Però non me ne frega di meno, anzi, bella per lei. Ti prendo come reference, è quasi piacevole. Io lo trovo un po' assurdo, no? Vendere un libro e dire, però non copiate e prenderlo come reference. Ci sta, io infatti ogni volta che prendo un tatuaggio come reference, lo scrivo, perché mi sembra corretto. Anche se un tatuaggio del passato. Ma è anche insomma istruttiva come cosa, da dire a una persona che magari lo guava da uno schermo in maniera fredda. Lo fanno in pochi. No, è vero. Lo fanno in pochi, a me questa cosa mi dà proprio fastidio. Il tradizionale secondo me è scontato. Perché vedi che l'angelo di Sutherland McDonald's che ho fatto due giorni fa a una ragazza americana e non puoi non dire che di Sutherland McDonald's, perché è troppo bello quel disegno. Certo, sei quasi fiero di dire dove l'hai preso. E l'hanno fatto in 5 milioni di persone. Allora o siamo 5 milioni dei cazzari, oppure devi dire dove l'hai preso, no? Certo. Anche perché così dai un riconoscimento a chi ha fatto quell'opera, che tra l'altro l'originale è pazzesco. È della bellezza che nessuno è arrivato a farlo come lui. Il mio pensiero. Certo. Ma quindi si copiava ai tempi. Sì, assolutamente. Io ancora qua ho tutte le tavole, che so, di Greg Irons, di tutti, quelli dell'epoca. Si vendevano proprio. C'era addirittura una rivista, questa è più anni 90, che si chiamava Tattoo Idea, che erano dei piccoli flashbook, con delle cose orribili solo. Cioè, però la gente diceva voglio quello. Anni 90 però la gente diceva voglio quello. Prima ci si tatuava, c'è un genio che si dice off the wall, ossia fuori dal muro, perché c'erano i vari quadri, i vari flashbook, voglio del quadro 1 e numero 8. E io di quel quadro 1 e numero 8 andavo fatti 500. Certo. Poi ogni tatuaggio, per te quel quadro 1 e numero 8 significa l'amore per tua madre. Per me l'amore per Mimoi e per un altro che ha litigato con l'amico. Non lo so. Ce lo mettevi tu il significato? Assolutamente sì. Cioè il tatuato mettevi il significato? Assolutamente sì. Oggi si cerca un po' troppo di filosofeggiare su questa storia. A me anche piace farlo, sono uno dei più a farlo. Però mi sono accorto ultimamente anche meno. Anche meno. Sì, quando lo fanno tutti dopo perde un po' di quell'importanza lì, ovviamente. Sì. Ma come tutte le cose. Cioè quando viene esagerata, estremizzata, perde anche un po' di quell'uccichio che ha. Brava, di quella freschezza, no? Sì, vero, vero. Io preferisco mille volte un walk-in che viene, sfoglia il flashbook e mi dice voglio questo. Per me è felicissimo di farlo, anche se l'ho fatto già. Certo. Magari, perché comunque i lavori del mio flashbook, chiunque se li venisse a fare. Venita Fabri, Roma, Tatooine da uno studio. Molti sono già stati fatti. Certo. Perché fa proprio parte del flashbook, poi viene quello che vuole il tatuaggio per lui. Custom. Gli si fa, si disegna per carità. Però prima non è mai stato così, mai. Quando è che, Gabriele, è partita la, se vogliamo chiamarla, moda del tattoo? Quando è che, parlando appunto della tua storia, hai visto questo ambiente nascere? Cioè, nascere dal punto di vista proprio dell'ingrassare, aumentare le persone che continuavano ad aggiungersi concorrenza? Quando nasce la concorrenza? È stato una cosa, è tipo una valanga, no? Ok. Che inizia con tre sassolini che si arrotolano uno sull'altro e poi viene giù lo schifo e spacca tutto. E questo è successo. È cominciato con le prime riviste, che ha fatto prima Elvia e poi Michi. Vi ho detto che se mi guarda c'è Michi. Speriamo, sarebbe un piacere. Vabbè. Quindi già quello hanno dato una visione più ampia sia ai nostri occhi che alle nostre menti. Perché Michi comunque è stato, è, una persona che ha fatto tanto bene a questo mondo. Facendoci conoscere e continuando a farci conoscere un sacco di artisti. Quindi le riviste diciamo che sono stati i primi sassolini a fare questa valanga. Poi, dopo, è subentrato quest'obbligo della scuola. Ok. Quindi stiamo ancora parlando del certificato ASL, no? Sì. Di quello che stiamo parlando, no? Sì, delle famose 90 ore. Ok. No? Quello già erano i sassolini che hanno fatto più grande questa valanga fino ad arrivare ai social. I social sono stati... Vabbè, il social è... Futuro. È all'oggi. L'ina da un certo punto di vista e il bene da un altro punto di vista. Però diciamo che il social ha massificato completamente il nostro mondo. Ok. Però... Prima di parlare del social e sapere anche... Ci arriviamo. No, è interessante perché prima di te soltanto GP mi aveva nominato sta cosa qua. E io, ad esempio, non ci ho mai fatto realmente tanto caso. È il discorso dell'ASL. Il discorso del certificato delle 90 ore per diventare attaccatore. Beh, se tu pensi, quando GP aprì il negozio, il primo studio qui a Via della Barchetta, nell'86, fu la ASL a chiedere... Ma che dobbiamo fare? Eh, questa roba qua è per me impressionante. Cioè, è impensabile. Non sapeva cos'era uno studio di tatuaggi. Quindi siamo stati... Noi, o meglio, lui, io ero giovane, quindi non è che... Tu era un'apprendista da GP? Sì. Già tatuavo. Perché io in realtà non ho cominciato come studio a tatuare da GP, ma ho cominciato come studio a tatuare da Sergio Messina. Ok. Nel 93. A tatuare, diciamo, in modo professionale. Già tatuavo da un po'. Già ero tatuato da un po'. Però sì, dicevi che l'ASL viene da GP? Bravo. E quindi siamo stati noi a dare le direttive all'ASL da poterci dare a noi per... Cioè, una follia. No? Sì, sì, sì. E lì è stata la cazzata grossa che abbiamo fatto, ma non solo noi, per cui abbiamo dato quest'input alle scuole. Alla Regione Lazio, alle scuole. Non io, eh. Però tutto un gruppo di... Vabbè, certo. ...di lavoratori dell'epoca. Abbiamo fatto questa stronzata senza senso. Senza senso. Perché l'ha aperto a più persone? Dici questo perché? Perché... L'ha reso di tutti. Ma guarda, a me se di tutti non è che voglio essere l'unico, eh. Anzi, più si divulga è meglio e più sono felice. Basta che ci sia gente sia capace tecnicamente che capace con la capoccia. Nel senso, secondo me, la testa di un tatuatore... Di un tatuatore, ti parlo di un tatuatore vero, è diversa dalla testa di un'altra persona. Noi viviamo immersi H24 dentro questo mondo. Non è che lavoriamo dalle 11 della mattina, alle 7 di sera, e poi penso ad altro. No. Cioè, una mania, un tutto, una vita, uno stile di vita. È uno stile di vita. Esattamente uno stile di vita, dal quale però ti devi anche un po' difendere, secondo me. Perché quando una passione, poi, si prende tutta la tua vita, la vita vera viene messa da parte. Certo. E non è giusto. Che poi uno ha una famiglia, un figlio, una moglie, gli amici, lo sport. Cioè, c'è altro, ci sono anche altri. C'è anche altro. C'è anche altro nella vita. Però, comunque, per un tatuatore vero, è difficile smettere di pensare al tatuaggio. Cioè, io, anche quando guardo un film, vedo, ne so, una luce puntata sugli occhi, dico, vedi, però, che dritta per fare un ritratto, quello squarcio di luce. Ci trovi comunque delle... Sì, trovo delle reference, ovunque. Ogni occasione buona per parlare di quello. Certo, ma questo l'ho, in maniera passiva, l'ho vissuto, lo sto vivendo anch'io, quando comunque mi capita di passare del tempo con persone appassionate. Anche prima non sta... Lo dico, i ragazzi da casa stanno andando a posto il tutto. Mi stai messi giù lì a montare la macchinetta con Valerio a vedere qua va, non va, così. Cioè, è interessante. E un po' ti dico anche... Mi fa strano. Cioè, è interessante, figo, però anche mi fa strano. Che comunque, se lo vedi fare da... Un ragazzo, magari, di 25 anni, no? A inizio carriera dici... È normale che sia così. Anzi, è strano se non lo fa. Quando vedi una persona che comunque è in questa mente da così tanto tempo come puoi essere tu, ti dici... Ah, vedi? Allora non c'è una... Io ti dico una cosa, che è più facile vedere uno come me o come Valerio che sta a trafficare con la macchinetta piuttosto che vedere un ragazzo di 20 anni. Sì, sì, certo. Certo, certo. Perché il ragazzo di 20 anni ha la macchinetta perfetta che... Che va. Attacchi, va, scrive, finito. No? Benvengano. Non è mica dico che è una cazzata. Benvengano. Però, secondo me, non si può guardare davanti se non si è guardato indietro. No? Allora, il ritorno in qualche modo che io sto avendo in questo momento alle macchinette vere, non che le altre siano false, per carità, però alla macchina con le bobbine, con le molle che hanno tutta una serie di rotture di coglioni immense perché vanno a settare e devi cambiare la molla e non ti scrive, ti scrive, ti spruzza. Cioè, c'è tutta una serie di problematiche che però, quando le hai risolte, godi. No? E allora... Certo. È anche un conquistarso. È anche un conquistarso il tattoo. Bravo. Se sono in grado di fare questa cosa, allora mi merito di fare... E poi non riesco a capire come una persona che ami realmente questo lavoro non abbia la curiosità di sapere come funziona uno strumento, di smontarlo, di non sapere come sia fatto un colore che mettiamo giornalmente sotto la pelle dei cristiani facendoci pagare. Certo. Quindi devi sapere quello che cazzo fai. Certo, certo. È un'istruzione che come tutti i lavori... È una questione di curiosità, poi. Sì, 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 sì. C'è chi non lo è, cazzi. C'è chi non ce l'ha e chi sta, chi sta, chi sta. Ok. Parliamo dei 92.000. Andiamo a fare questo scalino qua. 92.000. 90... È proprio in studio, c'è proprio il lavoro in studio inteso come dipendente dello studio piuttosto che come studio tuo. Cioè voglio capire un attimo anche come si viveva lo studio ai tempi, chi era il cliente medio del tatuatore. Allora, negli anni 90 si è cominciato un po' il tatuaggio a diventare mainstream. In Italia parlo sempre. Quindi la clientela è cambiata molto. C'erano sempre gli appassionati, cioè gente che si tatuava per tatuarsi non per ragioni, però appassionati di tatuaggio come gli appassionati di moto vanno in moto per correre. Cioè. E c'erano poi sono cominciate ad arrivare anche tutta una serie di categorie di gente senza fare le categorie perché insomma però anche ne so le ragazze giovani che si facevano la rosellina sotto l'orologio cioè è diventato un po' di moda no? Ma però sempre con cose molto fini molto fini negli anni 90 e più c'è stata quell'ondata di nero di Zulueta di Leo Zulueta con i tribalino sexy con i tribali che lì è stata proprio un'orgia di nero per tutti gli anni 90 che ora stanno tornando tra l'altro è sempre un ciclo è sempre un ciclo ora gli stanno andando un sacco i motivi tribali Sì, il tribale nero anche sulla scala ovviamente diversa su scala Sì, sì, certo però insomma quegli anni lì erano gli anni dove il tatuaggio ha cominciato a sgomitare a farsi vedere un po' di più le prime convention quindi i primi contatti con i tatuatori internazionali miti assoluti perché noi neanche sapevamo molti come si faceva il grigio come diluirlo i colori si usava il nero io personalmente usavo il pelican che bollivo cioè c'erano poi c'erano un sacco di leggende metropolitane a Philip Lou fa il nero bollendolo poi leva la schiuma sopra uno provava a fare queste cose i rumori sottofondo che poi ti portano a sperimentare era comunque una ficata perché passavi le nottate a sperimentare a bollire colori che esplodevano fico veramente saldavigliaghi hai tempi eri contento di fare quella cosa lì cioè nel senso adesso dici fico ero contentissimo sì ok non l'hai mai vissuto come un no ho vissuto momenti di forte depressione perché pensavo di non essere capace perché magari sbagliavi l'ago tiravi una linea e usciva al sangue perché l'avevi saldato troppo in punta o con troppo stagno quindi faceva schifo quindi tornavi a casa depresso demoralizzato tra virgolette demoralizzato la depressione è un'altra cosa purtroppo quindi ho vissuto momenti tosti perché dico cazzo io ho speso tanti soldi tanto impegno tanti anni non mi riesce una riga perché ho saldato a mare un ago che il giorno dopo magari rivelli provi un'altra volta finché non trovi la quadra dei tuagli lì godi come un porco certo ma quando trovi il setup il famoso setup vedi quello e poi è come un po' in tutte le cose c'è quel giorno che ti cambia tutto che capisci come funziona a me mi è capitato in tanti campi nello sport quando sci a un certo punto capisci devi spostare il peso di là e sci e vai cazzo vedi che figata o suonare mi c'è sempre un momento c'è sempre un momento una scalata verso quel picco e pa scopri cazzo questo era che dovevo fare e lì ti cambia la vita la vita nel professionale nel settore nel settore la vita di studio come era ai tempi cioè rispetto a come può essere adesso guarda nel mio studio non perché me la tiro ma è uguale uguale io ho impostato questo studio su ciò che era il mio studio il nostro studio negli anni 80 e 90 quindi poca gente molto disegno molti libri si parla di di tatuaggi H24 qua dentro ma non perché siamo dei malari ma perché la nostra vita ospito gente capace dalla quale posso con la quale posso avere uno scambio cioè è rimasto quello quindi è rimasto comunque il core di tutto è sempre il tattoo per me sì per me sì e non cambierà mai cioè difficilmente qua vedrai il tattoo forse quando morirò chi cazzo se lo prenderà questo studio non lo so lo farà diventare uno studio che faranno watercolour vabbè ci sta è la prima volta che tu comunque sono 37 minuti è la prima volta che hai trovato watercolour quindi ci sta già me lo rimangio già no ci sta e quando e come se possiamo chiedertelo è successo che il tattoo in daemon è diventato tuo se possiamo parlare di quelle cioè quando ti è stato tramandato ma guarda è stato un passaggio molto semplice in realtà perché G.P. a un certo punto della sua vita intorno al fine anni 90 ha detto mi sono rotto basta notta doppio chiudiamo noi avevamo uno studio proprio distante da qua dove tatuavamo in 5 ha fatto G.P. che cazzo chiudiamo cioè questo è uno studio storico me lo lasci a me piglacolo la lasciate a me finita molto semplice però molto semplice molto semplice tanto più che la cosa più figa è stato che quando ho aperto qui G.P. è venuto se mi ascolti G.P. questo te lo dico proprio è venuto qui e mi dava le percentuali cioè top che cazzo capito mamma mia cioè le percentuali da G.P. per me è stato il top della mia vita professionale la soddisfazione ho vinto ho vinto dopo avevi dato milioni per anni vieni te e mi dà cazzo bellissimo 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 davvero io ti voglio chiedere Gabriele il level up quando l'hai quando l'hai visto anche da cioè non solo da tutore ma anche proprio nel senso quando la scena secondo te stava crescendo a quel punto di vista lì cioè quando la tecnica inizia a aumentare quando è che è successo cioè comunque se uno guarda i tuoi oggi da non so fino ad arrivare agli anni 2000 non c'erano le cose che magari uno può vedere da totti anni in poi non so neanche per quale motivo allora io ti dico una cosa negli anni 90 quando abbiamo cominciato a vedere i tatuatori internazionali Robert Hernandez Philip Blue Orioshi Little Winnie Meyers che ne so ce ne sono mille che ti posso dire la qualità dei lavori loro era già così alta era già avanti a quelli che facciamo oggi che facciamo oggi perché parliamo di fuoriclasse ok come nel calcio cioè il giocatore bravo il campione e i fuoriclasse che sono tre no Ronaldo Messi e Totti che cazzo ne so nel tatuaggio così era anche oggi secondo me di fuoriclasse ce ne saranno invece che tre dieci perché siamo molti più 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 tatuatori però a livello della base è più alto è più alto si è alzato molto però si è perso in quegli anni il concetto del tatuaggio cioè si è andati un po' oltre e secondo me si sta andando addirittura molto oltre quello che il tatuaggio deve essere cioè il tatuaggio secondo me è sempre parlo poi ognuno è libero di fare quello che vuole è un segno sul corpo composto da una linea del grigio e del colore del nero di grigio quello che ti pare a te e del colore quando questi tre elementi vengono a mancare tu vedi dei lavori bellissimi da un punto di vista tecnico da un punto di vista anche estetico ma non sono tatuaggi secondo me per carità non è una critica è un mio pensiero cioè io ho visto ultimamente alle convention ai contest cosa che detesto cioè detesto non i contest le gare cioè una gara di tatuaggio che cazzo mi può giudicare il mio tatuaggio perché cioè chi può dire bello brutto nessuno perché poi vedi Bugs uno è il tatuatore degli anni 90 che tatuava tipo Tamara Delempizca con i voltini distorti uno che allora chiede di brutto no un genio era Bugs è statua no quindi i contest lasciano tempo che trova però questo per tornare a dire che ho visto nelle ultime convention che ho frequentato ho visto sui social non ho visto neanche un tatuaggio secondo i miei canoni ossia linea nero grigio colore no tutti i tatuaggi senza linea colori fortissimi enormi fatti in tre giorni alle convention pieni di crema anestetici per fare questi cazzo di contest e non ci hanno fascino alla mia vista perché sono vecchio rincoglionito magari alla vista tua che sei giovane a te piacciono quindi più un discorso c'è stato un momento in cui magari c'è pensato di più alla tecnica e al vendere un prodotto piuttosto che un prodotto nuovo che ci sta perché siamo nel 2020 per carità noi siamo rimasti facendo tatuaggi del 1800 in confronto perché faccio le cose vecchie quindi non mi sono evoluto affatto anzi però se l'evoluzione deve essere andare contro quello che il tatuaggio realmente è come segno non è un'evoluzione è un'involuzione secondo me io penso che noi la generazione nostra cioè di noi viventi adesso che stiamo che stiamo qui siamo l'ultima che potrà vedere il tatuaggio vecchio il tatuaggio vintage vero tra 50 anni se vedono quello che fanno noi oggi cazzo tutta questa cosa obsoleta però perché non sono più tatuaggi tra 20 anni quelle cosce che ho visto in convention e 20 anni in un tatuaggio sono una puzza niente perché ci si tatua da da sempre c'è nato con l'uomo quindi 20 anni è proprio una caccola quei tatuaggi lì non esisteranno più non esisteranno più addosso a quelle persone perché saranno una pizza una macchia una marmellata di colori di colori fighissimi fluo oggi tra due anni non sono più così allora quando un tatuatore non sa valutare questo sta facendo del male a questo mondo per quanto mi riguarda sta facendo i suoi interessi il suo business il suo marketing si ora va questo e va questo e va bene così lo accetto a capo chino così chino io faccio tu fai il tuo ti faccio il mio non me lo frega un cazzo però è insomma è molto interessante sentire queste cose perché a confronto con il mondo di tatuaggio adesso c'è lo vedo proprio poi ci sono giovani fortissimi no ma c'è i tatuaggi veri fortissimi giovani gente di 20 anni di 19 anni che spacca no ma c'è ma questo non è una critica la mia è una fotografia è diversa non ti preoccupare chi vuole malintendere le tue parole o comunque malvedere sono cazzisuone però è secondo me interessante questo discorso che stai facendo il discorso del fatto che ci sia ci sia concentrato di più su quello che può essere un vendere un qualcosa rispetto che al preservare conservare o semplicemente anche al fare cose nuove però conoscendo bravo cioè io vabbè però c'ho una libreria qua non lo so possiamo farla vedere no frega te ne frega se no mi rendi la ruba a sfida c'ho un sacco di libri che io ho letto tutti non ti dico che ti potrei dire le immagini in quale pagina stanno però se mi chiedi che ne so un drago di orioce con occhi chiusi trova da prendere se mi lo chiedi con la faccia davanti ti prendo quelle immagini sì perché me ne sono mangiati quei libri però una volta mangiati i libri vanno chiusi secondo me cioè se tu stai ogni giorno a prendere le referenze dai libri le cose non cresci mai anche se fai i tatuaggi che faccio io tradizionali io spesso prendo delle reference ma se prendo delle reference se lo devo copiare cioè che ne so devo fare un tatuaggio di Berggrim di Amunditzel è inutile che mi metto a fare la donnina di Amunditzel quella con la maschera da diavolo in un altro modo perché sai che quella versione lì è migliore sì è un'icona è un simbolo allo stesso modo è un simbolo bravo quindi va rifatta così poi la puoi cambiare perché c'è un altro modo di tatuare però quella deve essere se fai un tatuaggio così iconico mentre vedi ci sono molti che se ne fottono questa cosa dispiace certo e comunque non tramandi a me fa piacere ad esempio vedere vedere che ci siano dei cult capito che vengono riproposti tuttora anche infatti da gente giovane nella versione più giovane di quella cosa lì però sarebbe anche carino se i giovani che fanno non ne so i cavalli del faraone piuttosto che che Rocco Veges si andassero a leggere che cazzo da dove viene quella roba lì chi ha fatto per la prima volta i cavalli del faraone chi ha fatto per la prima volta Rocco Veges o perlomeno da dove viene dalla leggenda di Rocco Veges che poi c'entra un cazzo con quella croce che è una spaccatura piccola così in una roccia fine certo una cosa ma beh lì anche già i tempi c'era un modo di c'è un modo di tramandare la religione buttarla in mezzo ma è sempre girare le cose i cavalli del faraone perché è diventato un tatuaggio così iconico che è una parte di Bibbia poi alla fine no che la Bibbia poi dice che non bisogna tatuarsi nel Levitico eccetera però è diventato un tatuaggio culto sì 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 assolutamente tra l'altro bellissimo e difficilissimo da fare bene quindi vedere poi queste macchie di colore così a me mi piange il cuore a me poi tutti la cosa bella del tatuaggio è che ci rende liberi di fare e di tatuarti quello che cazzo ti pare questa è la cosa secondo me che nessuno può dire a meglio il mio e a meglio il tuo sono più bravo io sei più bravo te ognuno fa il suo e la libertà di poterlo fare con la consapevolezza di fare un qualcosa di tuo di libero secondo me è un dono enorme che questo mondo ti dà un dono enorme sto zitto non ho niente da dire ma è una bomba questa cosa che tu non è questione che sono bomba no mi ha toccato ho visto che c'è un front no a chi hai dato retta a te stesso ti sei fatto questo front perché ti piaceva quel tatuatore o tatuatrice non so chi è ti piaceva questo stile te lo sei fatto vaffanculo così è così deve essere poi se devi rendere conto a un genitore a una moglie che ti rompe il cazzo o la fidanzata no certo non è che mi hai dato un pisello qua si c'è un limite a tutto però le mani me le sono fatte a 58 anni per dirti perché comunque i genitori in vita che magari mia madre non gli piaceva li rispetto non è che uno deve però dal momento che io lo faccio come lavoro sono tatuato tutto non devo più rendere conto a nessuno quindi questo è il momento della mia vita questo in cui sono maggiormente libero più cresce più diventi libero perché c'hai meno paletti con chi ti sta attorno con gli amici con i genitori perché sei diventa vecchio fai come cazzo ti pare c'era 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 almeno questo se no diventa ormai infatti mi hai anticipato tra l'altro volevo fare appunto questa domanda dall'altro punto di vista perché oltre ad essere un tatuatore sei anche un tatuato è una cosa che personalmente io non tatuo quindi devo soltanto quella parte la metà io mi potessi se io potessi non è che non posso però se potessi io mi tatuerei un pezzo al giorno solo che ho finito un po' un po' le zone gli spazi però a me piace ancora tatuarmi tanto proprio ho visto che recentemente hai fatto anche i palmi ho fatto i palmi ho fatto la la testa cioè a me piace proprio tatuarmi cioè ogni tatuaggio i primi tatuaggi che ti fai quando esci dallo studio c'è una sensazione bellissima tipo droga a me ancora cammini tanto così da terra non è mai cambiata ti passa mal di testo se ti fa male sei contento perché comunque hai superato la soglia del tuo dolore quindi ti ti autogratifica tatuarti io ancora oggi provo quella sensazione io uguale completamente quando ho fatto la testa sono state sette ore di tatuaggio handbook mamma mia abbiamo finito a luna e tre quarti di notte sono arrivato a casa non ho dormito per la felicità eppure di tatuaggio ne ho fatti tanti capito poi quando violi certi canoni tipo la testa le mani questi posti qua ti senti ancora più cazzuto non so ancora più liberi me la sono fatta chi sti cazzi capito ora non lo so dove arriverò penso che la faccia non me la farò mai anche se c'ho tre quattro cazzate però insomma mai dire mai a livello proprio di tatuato quindi secondo te quando è stato cioè hai già risposto comunque che è arrivata con l'età con il momento di libertà di cui parlavamo all'inizio della vita ma io guarda ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori splendidi splendidi io ho fatto architettura ho fatto tutti gli esami di architettura non ho fatto la tesi perché mi sono dedicato a questo mondo e non è stato facile a casa dire a un padre ad una madre tra l'altro ero bravo l'architettura c'era una buona media ho vinto un concorso internazionale cioè ero forte ho detto mamma io ho il canno tutto per il tattoo voglio tatuare che ai tempi era già strano dire tatuare anni 90 perché io ho incominciato a lavorare in uno studio di architettura in pieno mani pulite quindi ho capito come stava andando quel mondo lì mazzette cose impiccine io invece purtroppo ho una mentalità del cazzo che è una mentalità molto romantica in tutto quello che faccio quindi vedevo l'architettura come il miei Van Der Rohe come Le Corbusier comunque Alvaralto come artisti come architetti che inventavano costruivano seriamente lasciavano il loro segno comunque nella storia a me la casa sulla cascata di Wraith ancora oggi penso sia una delle opere architettoniche più belle del mondo capito e quindi facevo l'architetto con quella visione con la visione romantica quando ho visto come era più così ho detto che cazzo so fare qua ha guadagnato 15 euro l'ora per disegnare sul tecnigrafo e non fare mai un cazzo nella vita perché se funziona così io non farò mai un cazzo perché non sono una persona disposta a compromessi per denaro e c'è questo piano piano B che poi è sempre stato il piano A della mia vita quello di tatuare ho detto basta tatuo i miei gli hanno fatto sei felice? sì tatua quindi tatua e tatuati perché già ero tatuato capito di discussioni con i professori all'università ah Donnì sempre tatuato non è sempre un tatuaggio nuovo che cazzo perché poi l'architettura è molto spartana come rapporto tra i docenti e gli studenti quindi avendo questa fortuna di avere due genitori così mi sono sempre sentito libero quasi sempre va bene va bene Gabriele io direi che possiamo parlare per chiuderla diciamo di quello che è il tatuaggio oggi però prima di parlare effettivamente di quello che può essere il social e argomenti triti e ritriti volevo innanzitutto ringraziarti grazie a te di avermi invitato non è scontato guardatele tutte le puntate di martedì grazie sono 73 sono lunghe devi scavare bene è tipo narco ho scritto 5 serie così però alla fine vedrete io ti ringrazio perché il mio obiettivo è quello di cercare comunque di portare degli episodi con uno sfondo particolare e una persona competente che parla di quella cosa in particolare e oggi secondo me era interessante prendere quello che è il tuo piglio romantico come hai detto anche tu che trovo assolutamente d'accordo per cercare di avere una quadra non soltanto di quello che è stato il tuo percorso ma anche di quello che è stato un po' l'arco del cambiamento del tatuaggio in Italia almeno in questi anni parliamo dell'Italia perché del mondo non ha senso è giusto parlare di proprio orticello e che parli del suo infatti io ho detto per me è importante che ci sia quella persona a parlare di quella cosa specifica e quindi volevo ringraziarti perché adesso secondo me è giunto il momento di toccare un po' quello che è il tassello magari questa forse sarà una delle ultime interviste che faccio lo sai? allora sono onorato anche di sta cosa perché poi alla fine diventi ripetitivo e rincogionile no io ti dico ho voluto fare ripetitivo ho voluto ringraziarti prima appunto per questo motivo perché a me non è a parte che lo vedi da come sono dall'età che ho cioè non mi interessa andare contro a nessuno mi interessa semplicemente mi interessa semplicemente avere un un parere un punto di vista una riflessione andiamo a noi tatuaggio post 2015 post social post 2010 qua rischio di diventare antipatico però sarà antipatico però insomma è il momento in cui è giusto che tu dica quello che ti senti io ti lascio ovviamente alla tua riflessione social post social post social vuol dire che il social nel bene o nel male ha influito tantissimo su questo mondo io sono sui social ho facebook due profili instagram quindi non è che sono uno che dice ah i social sono il diavolo anzi trovo solo che i social abbiano totalmente appiattito gli stili abbiano totalmente cioè il social ci dà la possibilità di crearci un personaggio che è una ficata se ci pensi però sarebbe carino da parte nostra far vedere chi realmente siamo non fingere molti sui social fingono di essere ciò che non sono fingono di essere tatuatori e sono influencer o fingono di essere influencer e sono tatuatori ora non lo so il tatuaggio reputo che sia una cosa molto seria cioè non è un gioco non è un'arte applicata a cazzo è un'arte applicata su una persona vivente che respira con un'anima con un sentimento quindi va affrontata con il massimo della serietà anche se fai la scrittina Dai e Roma o Dai e Lazio quello che è la devi fare al massimo delle tue forze delle tue potenzialità i social ci hanno permesso di mascherarci ok sono un sacco di ragazzi che conosco che sui social mi stanno sul cazzo da morire perché fanno vedere delle cose poi dal vivo sono adorabili o viceversa per il tatuaggio ci ha appiattito un po' a tutti me compreso perché comunque inevitabilmente scrolliamo su quel cazzo di telefonino vediamo una persona che a noi piace che ha messo un verde particolare allora uno come me che è curioso si chiede come cazzo ha fatto a fare quel verde l'ha mischiato con il bianco ci ha messo una punta di blu ci provi una o due volte e li fai quel verde lì lo faccio io me lo copio un altro lo copio un altro come un altro tutti dato nello stesso modo magari c'è quello che l'idea è vincente e la fa vedere e in quel senso lì è positivo perché è come essere in guest però quando lo fanno tutti perdi è tutto positivo però non dovresti far comandare al social la tua vita ma dovresti essere tu a voler ricercare certo io ho due profili uno è quello classico dello studio dove non dico un cazzo posto le foto dei miei lavori a chi piace mi telefono e un altro invece dove io posto i miei pensieri riflessioni ok esatto non me ne frega un cazzo dell'orario in cui postare non me ne frega niente non guardo gli insight tutti questi gli algoritmi no no quello è uno sfogo che io ho se a mezzanotte e mezzo mi viene da dire che il tatuaggio watercolour è una merda io lo scrivo su quel post a mezzanotte poi piglierò centomila persone che mi dicono bravo e altre cinquecentomila che mi dicono stronzo va bene però sono io che ho usato il social non il social che ha usato me capito questo un po' ci ha traviato un pochino a tutti noi stiamo ora facendo questa cosa grazie ai social certo stiamo sfruttando comunque lo ringrazio perché è un modo di divulgare il tatuaggio che è la cosa a cui tengo io non è di divulgare me stesso è di divulgare questo modo di essere che è quello di un tatuatore che la pensa come me o di un tatuatore che la pensa come un altro non lo so però uno dovrebbe avere un'idea da proporre un'idea mentale un'idea sua un'idea sua da proporre sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista morale no? e questa cosa sui social si è un po' persa quindi il tatuaggio oggi sta secondo me in una fase di cambiamento totale totale tornerà come era prima io ne sono certo volevo fare un punto di vista domanda qua secondo me i ricicli io ci credo molto come stanno tornando i tribali che dieci anni fa si entrava uno e ti chiedeva un tribale lo cacciavi a carcere da studio no che il tribale fatti un tatuaggio fatti un giapponese oggi stanno tornando io ben felice di farli se un bel tribale preso da una cultura giusta fatto con i giusti canoni questo dico quindi oggi stiamo secondo me nel momento di cambiamento ancora ora come cambierà non lo so non lo so se non prevedevo il futuro ero il miardario e mi giocavo il super in ero però non lo so proprio spero spero che torni ad essere il tatuaggio vero con i tatuatori veri e molta gente gli auguro di smettere di tatuare perché se non sei in grado di fare una cosa perché farla per forza se io non sono in grado di guidare una moto da MotoGP è inutile che vada a Vallelunga a fare le prove perché mi faccio male però tatuando in un certo modo tu non ti fai male a te fai male agli altri fai male al tatuaggio che è una cosa che detesto si fa in due il tatuaggio è sempre quello il discorso sempre è una connessione molto stretta è una connessione molto intra perché tu entri qua che sei una persona esci che sei un'altra anche se io ti faccio un infinito qua tu sei un'altra persona poi non ce la vedi certo no io per questo ho il muro che è grigio più lì e da qui rosso perché è come se fosse una zona di non ritorno anche l'eleo visivo anche l'eleo visivo sai che qua cambi bravo io ti cambio io ho una responsabilità enorme per cambiarti no? cioè io cazzo ancora oggi sento questa responsabilità dopo 40 anni e vedo che molta gente non gliene frica un cazzo tatua Pischelli in fascia le reti le cose fanno cose assurde sulla faccia della gente per denaro sì ma tanto se non lo facevo io non lo faceva un altro capito allora spacciamo tutti l'eroina tanto se non la spaccio io se non la comprate un altro è uguale è vero il concetto e poi c'è un c'è un discorso portato dai social molto serio da affrontare che è il discorso del falso mito che il tradutore è ricco è figo scopa c'è gli orologi d'epoca c'è le macchine d'epoca lo status lo status del tatuatore io conosco conosco tatuatori che si fanno le foto con macchine e non loro che affittano le macchine per farsi le foto allora tu per me non so se mi stai sentendo e sai che mi riferisco a te sei un cazzaro la macchina se ce l'hai te la compri se non ce l'hai gira con la 500 va bene uguale sei tatuatore lo stesso non cambia nulla capito quindi questo falso mito alimenta la voglia di diventare tatuatori è diventato come 4-5 anni fa a fare lo chef ma anche tutti i chef devono diventare ma da un po' di anni tutti i tatuatori ci hanno messo le scuole i cazzi i mazzi cioè non c'ho nulla contro le scuole però hanno diventato ovviamente certo però visto che ci sono la gente sa che c'è un percorso per diventare cioè per avere quel tipo di status lì che hanno stato comunque è fila è fila è falso è falso perché io per mandare avanti una famiglia mi devo fare un bucio di culo così capito nonostante siano 40 anni che tatuo poi se mi sono tolto qualche sfizio è grazie al bucio di culo così che mi sono fatto ma non perché sono tatuatore capito è lavoro come un altro e non salviamo la vita a nessuno non risolviamo la pace nel mondo non risolviamo il problema del cancro dell'IDS niente facciamo tatuaggi quindi anche meno capito continuiamo a fare tatuaggi sì è una cosa talmente bella talmente figa che rovinarla per una cosa finta che è uno status che non è così ci sono cascato pure io per carità io ho avuto un periodo intorno ai 20 22 anni dove essendo pochi a Roma tatuavo tantissimo tantissimo riuscivo a guadagnare cifre notevolissime quindi giravo a 22 anni con la Porsche quindi avevo perso il contatto con la verità con i soldi veri cioè ancora oggi ci sono tatuatori che per un pezzo così ti chiedono 500 euro 500 euro è mezzo stipendio di una persona normale e quel tatuaggio così che tra 10 anni non ci sarà più un cazzo tu tu che gli hai fatto sei uno stronzo mi dispiace però è il mio pensiero poi mi potete criticare attaccare sui soci mandando a fanculo quello che volete però tanto ben detto che c'è lo schermo dell'età ormai che non ti tocca più niente perché comunque ci deve stare un limite in tutto ci deve stare un limite in tutto quando questo limite si passa sulla pelle della gente io non lo trovo corretto non lo trovo una cosa etica l'etica del tatuaggio è scomparsa completamente e esiste un'etica del tatuaggio esiste un codice non scritto del tatuaggio ma esiste non è che me lo sono inventato io sono inventati i tatuatori di 100 anni fa certo perché venirne meno su un ragazzo di 18 anni che ha la vita davanti cioè io spesso quando vengono i genitori con i figli minorenni la maggior parte dei volte li consiglio di non tatuarsi non è obbligatorio tatuarsi perché si vogliono fare le cose piccole così perché il primo io gli dico scusa ma se oggi una cosa piccola così c'hai 16 anni tra 10 che ce n'hai 26 se è ancora un ragazzo una ragazza giovanissima c'è una merda perché perché il tatuaggio è perenne io ho visto cazzarola un body suite di Ardi fatto nel 74 a Danny Scockel ragazzi io mi sono emozionato perché ho visto il tatuaggio ho visto un pezzo che ho detto porca puttana capito e noi qua siamo a combattere quel micro realistico da 500 euro no chiudiamo 74 chiudiamo chiudiamo perfetto Gabriele ti ringrazio ancora grazie a te ragazzi mi auguro forte mi auguro che possiate aver colto anche voi qualcuna delle tante riflessioni che abbiamo fatto questa sera insieme a Gabriele che ha fatto Gabriele abbiamo fatto insieme perché me l'ha fatto uscire però è stato molto molto bello e entusiasmante secondo me anche rivivere questi tasselli di storia perché alla fine non è soltanto un discorso relativo strettamente a te ma è anche un riassunto che penso e spero possa toccare tanti altri più e meno giovani io me lo auguro torniamo prossimo Sanremo lo presenterà lui e forse ciao ragazzi buona serata